Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi, primo febbraio. Vediamo quali sono i temi della giornata. Intanto io devo notare come il sole 24 ore oggi stia facendo, direi che è uno dei pochi giornali in Italia, una battaglia su questa assegnazione dell'Agenzia per il farmaco agli olandesi. Il fondo di oggi del sole 24 ore ci spiega perché il ricorso italiano ha senso, non è una di quelle cose di quelli che non ci vogliono stare, ha un grande senso perché è stata fatta male l'istruttoria visto che banalmente hanno trasferito l'EMA da Londra per la Brexit all'Olanda invece che a Milano, vi ricorderete, con il sorteggio, ma ad Amsterdam non è ancora pronta la sede per accogliere i funzionari dell'EMA, cosa che invece sarebbe venuta a Milano con il palazzone della Pirelli che era là pronto vuoto proprio per loro. Io non entro nel merito della vicenda, però trovo che sia molto credibile il sole quando fa queste analisi e poi c'è una piccola notizia che dà il senso di quello che è diventata questa Europa incredibilmente ingovernabile in cui però i nostri soldi vanno a finire, i nostri soldi da contribuenti, una parte dei nostri soldi di contribuenti attraverso le nostre tasse vanno a finire in Europa. Ebbene l'EMA a Canary Wharf aveva preso un palazzo dove aveva sede l'agenzia del farmaco prima che la Brexit rompesse tutti i rapporti. Ebbene, ovviamente come in tutti questi casi si paga un contratto d'affitto, 500 milioni mi sembra o di sterline o di euro, poco cambia, una cifra incredibile per i prossimi 25 anni, ma la cosa straordinaria è che siccome se ne sono dovuti andare via e se ne dovranno andare via da Londra, dovranno comunque pagare le pigioni per gli anni che restano, non so, 20, 22, e pare che sia una cifra monster di 380 milioni. 380 milioni che comunque l'EMA deve pagare al suo affittuario di Canary Wharf per andarsene via da quel palazzo perché rompe il contratto. Secondo voi questi 380 milioni da dove escono? Da l'EMA? Da Babbo Natale? L'EMA crea i soldi stampandoli nelle cantine? Oppure? Oppure sono soldi dei contribuenti che anche italiani che verranno a finire nelle tasche del proprietario edilizio di Canary Wharf? La trovo incredibile questa storia, però molto tipica. Un'altra storia molto tipica è quella che avviene a Milano sul giudice della Corte d'Appello, i giudici della Corte d'Appello che decidono l'ammissibilità delle liste e fanno fuori le liste del centrodestra di Dombardia 1, 17 collegi unominali che sono praticamente certi, tutti del centrodestra, poco conta questo. Oggi sul Corriere della Sera spiegano bene come sia un mix, adesso ve lo leggo bene, come scrive il Corriere della Sera di oggi, sia un mix tra la superficialità dei partiti e la lettura iperformale dei giudici. Posso dirvi la verità? I partiti sono dei cretini, perché sanno con chi hanno a che fare, ma siccome si trattava di un documento, di un pezzo di carta, che comunque lo Stato ha già, cioè dell'apparentamento di una lista alle altre tre, noi con l'Italia, cioè all'interno della macchina statale, questo pezzo di carta c'è, i giudici dicono, siccome non l'avete presentato direttamente a noi, né noi andiamo a richiederlo ai nostri cugini dello Stato, consideriamo formalmente inaccettabile la vostra candidatura. È il tipico, tipico comportamento dello Stato. Ben gli sta ai partiti che faranno ricorso alla Cassazione, alla fine vinceranno perché si tratta di una cosa troppo importante e visibile, ma è il tipico modo in cui noi ci troviamo davanti alla giustizia di merda di questo Paese, che è basata soltanto sul rispetto delle forme e non della sostanza. Loro mettono in discussione che Lupi stia con Berlusconi. E' in tutta Italia con Berlusconi, in tutte le circoscrizioni, hanno prodotto i documenti in tutte le circoscrizioni, i partiti non l'hanno prodotto in quella circoscrizione, e allora che cosa dicono? Eh, siccome non è prodotto in questa circoscrizione, lo so che ce l'ho nell'ufficio accanto quel documento che a me manca, ma non sono io a doverlo ritirare, quindi sei fottuto. E questa è l'Italia, quindi i giudici hanno formalmente ragione, i politici hanno formalmente torto, ma avete capito bene la sostanza di come siamo schiacciati dalle procedure in questo Paese su tutto, su tutto, morti che camminiamo. Beh, devo dire che insomma poi quando leggo la storia delle ombrelline e di Liberty, la nuova società di cretini americani che si sono presi la Formula 1, beh, allora dico viva quel maialone di Bernie Eccleston, quell'evasore di Bernie Eccleston, come viene da qualcuno considerato, rispetto a questi deficienti americani. Avete sentito bene? Deficienti. Sapete che cosa hanno deciso? Hanno deciso di togliere le ragazze che con l'ombrello tenevano il fresco i piloti che stavano per partire a 300 km all'ora. Le cosiddette ombrelline della partenza di qualsiasi campionato di Formula 1 dove non abbiamo più vroom dei rumori, non avremo più la benzina perché inquina, non avremo più la velocità perché fa male, non avremo più i piloti perché gli metteremo i robot. E fatela voi la Formula 1, Liberty, fallite! Me lo auguro! Ma la cosa ridicola per la quale capisci che per fortuna che Trump esiste, per fortuna che non esiste soltanto Liberty, New York, la Fifth Avenue, per fortuna che esiste Trump, sapete cosa hanno detto questi di Liberty? Non rispecchiano più i nostri valori. Cioè, le ombrelline, loro si comprano la Formula 1 dove ci sono quattro cretini che girano pagati milioni di euro per andare veloci, cos'è che non rispecchia i loro valori di questa società sana, Liberty, no? Che si occupa della beneficenza del mondo, vi occupate di andare a 300 all'ora e non rispecchia che cosa i loro valori la ragazza con l'ombrellino. Vabbè, è una cosa in contrasto con le norme della società di oggi. No, in contrasto con le norme della società di oggi è la vostra intelligenza. Per fortuna che oggi io mi leggo oltre a avere Trump esiste e li deve fregare tutti questi cretini. Per fortuna che oggi non mi mettete a ridere oggi ho letto fantastico contro le ipocrisie pure brava Rosanna Rossana contro le ipocrisie pure non vi stupite Costantino della Gerardesca che tutti conoscono per la sua come possiamo dire colorata estrosità televisiva. In realtà oggi scrive un pezzo sul foglio inizia la sua attività sul foglio molto bello in cui dice che palle un paese che non ama il lusso quanto è importante il lusso che senso c'è il lusso e lo fa in un modo garbato ironico eccetera ma dietro al quale esiste un pensiero non debole un bel pensiero quello di Costantino della Gerardesca oggi leggetevelo sul foglio beh la storia più incredibile di oggi è da giornalista finanziario quello che tira fuori mi sembra la Salzanini sul Corriere della Sera ovviamente tirare fuori è sempre un eufemismo sono i giudici che passano le carte al giornale non si può dire che sono i giudici sono gli avvocati perché ovviamente però è sempre lei che ha una carta in più degli altri sarà bravissima ma ci sarà forse qualche rapporto specifico con i magistrati in questo caso la storia è incredibile e cioè un manager di Mediobanca la gola profonda di una delle più importanti banche d'affari d'Italia del passato oggi lo è molto di meno che dice come lui ed altri colleghi raccontavano delle operazioni di borse altro che quelle di Benedetti in anticipo e quindi c'era il gota degli studi di avvocato quelli che no che quando voi ci parlate come giornalisti sa io queste cose non le posso dire non le posso fare nel frattempo si spartivano qualche informazione sulle offerte pubbliche di acquisto e sulle IPO in borsa e facevano un sacco di soldi storia nella storia secondo l'accusa un ufficiale della guardia di finanza forniva anche loro informazioni su quando iniziavano le intercettazioni le eventuali intercettazioni telefoniche insomma uno scandalone per la finanza milanese e vale la pena ritornarci sopra sentiamo domani che cosa ne pensano per fortuna che Trump c'è non solo per le ombrelline oggi Federico Rampini che io vi dico molti di voi non lo amano però alla fine rispetto a questa massa di giornalisti che passa da Repubblica al Corriere soprattutto il Corriere parlando dell'America come se fosse l'America dei morti dopo che c'è Trump lui oggi ci ricorda come tre quarti degli americani abbiano approvato il discorso di ieri di Trump dell'Unione tre quarti degli americani altro che 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 minoranza americana beh oggi ci sentiamo più tardi in radio vi devo salutare che ho il viaggio da fare per Milano ci vediamo come sempre questa sera in radio se volete informazioni su nicolaporro.it ne arriveranno tante altre e condividete questa zucca 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 ciao